Difficoltà di transito per i disabili e non solo a ridosso della neonata questura della BAT dal Comune fanno sapere che al momento non è previsto alcun intervento di modifica. Sentiamo. Un passaggio pedonale che non permette il transito di disabili in carrozzina o di una persona con passeggino con l'aggravante che è nata a ridosso di un nuovo presidio della sicurezza. Si tratta del passaggio pedonale all'inizio di via indipendenza ad Andria dove lo scorso 27 luglio il ministro dell'interno, Luciano Lamorgese, ha inaugurato la questura della BAT. C'è di più. Come è facile notare, per qualsiasi cittadino non sarebbe sicuro transitarvi visto che a livello stradale, senza protezioni e largo solo 80 centimetri. Al netto di deroghe, la legge stabilisce per i percorsi pedonali una larghezza minima di 1,50 metri. Se ci sono dei passaggi obbligati o per restrizioni a causa di lavori in corso, la larghezza non può essere comunque inferiore a 90 centimetri. Dal comune fanno sapere che al momento non è previsto alcun intervento perché, dicono, è stata rispettata la conformazione territoriale esistente e per modificarla andrebbe predisposto un progetto di viabilità che cambi lo stato dei luoghi. Per questo, rivadiscono, è stato messo in opera questo semplice passaggio pedonale. Ad occhio, però, qualche soluzione non è impossibile da realizzare. Si potrebbe allargare il passaggio pedonale rendendolo sicuro con l'installazione di paletti come quelli utilizzati più avanti, lungo via Indipendenza. Oppure si potrebbe eliminare il marciapiede allargando verso l'interno lo spazio per i pedoni e delimitando l'aria, anche in questo caso, con i paletti. Rimediare alla questione, dunque, è possibile. Ampliando il discorso, bisognerebbe capire come, quando e perché è nato un restringimento stradale del genere. Perché di questo si tratta. Ma questa è un'altra storia.